amici barbecu mania bentornati oggi in questo video andiamo a vedere un barbecu a carbone Weber nello specifico andiamo a vedere il modello Weber Compact Kettle 57 è la versione di barbecu a carbone e versione Kettle più economica della casa di casa Weber più economica perché andiamo a vederlo un po' nel dettaglio per chi conosce un po' la gamma Weber già noterà un particolare di interesse abbiamo un coperchio che è più basso rispetto agli altri modelli in questo infatti limita parecchio l'utilizzo del barbecu per cotture indirette per cui principalmente l'affirente tipo di questo prodotto è chi vuole comunque mantenere un livello di qualità alto comprando un prodotto Weber ma avere una macchina principalmente solo per fare grigliate normali per cui cotture indirette non abbiamo termomero sul coperchio non abbiamo sistema di raccolta delle ceneri di sistema one touch abbiamo però un po' quello che contraddistingue sempre da sempre il barbecu della Weber per cui abbiamo ventola di aerazione sotto ventola di aerazione sopra diamo più o meno potenza al nostro carbone coperchio con maniglia terzo isolante gancio per poter raggiungere comodamente al nostro bracere e andando a vedere come è fatto dentro vediamo che abbiamo una griglia non articolata per cui non abbiamo le due alette che si aprono lateralmente per poter ricaricare il carbone fasi di cotture indirette non abbiamo binari separa carbone perché appunto il barbecu diciamo che è più indirizzato a una clientela che preferisce fare solo cotture dirette però torno a ripetermi abbiamo la qualità Weber per cui per chi non vuole rinunciare a un prodotto di qualità e non vuole comunque arrivare a spendere soldi come magari per un original kettle l'original kettle premium o addirittura un master touch diciamo che questo è il giusto compromesso abbiamo anche due copole ruote che ci permette di spostarlo facilmente il fatto di non avere tante caratteristiche che troviamo negli altri modelli questo però non ci vieta di poter comunque arrangiarci tramite l'utilizzo di accessori che trovate nel primo sito a effettuare delle cotture indirette semplici però per cui magari dovete procurarvi un termometro dovete procurarvi due cesti separa carbone e così via questo modello cioè il compact kettle viene rotto sia diametro 47 che appunto quello che vedete che è il diametro 57 questo barbecue come tanti altri barbecue sempre della casa web vi trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it vi invito a seguirci sulla nostra pagina facebook barbecumania.it e vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube barbecumania dove cerchiamo con video video recensioni video di ricette video di cotture cerchiamo di farvi innamorare come siamo noi innamorati del mondo del barbecue a 360 gradi da quelle che sono le classi di cotture dirette alle cotture indirette per passare poi alle low e slow e così via per cui torno a ripetere vi invito ad iscrivervi al nostro canale youtube dove appunto trovate dei video dove cerchiamo di spiegarvi un po' quelli che sono le caratteristiche dei nostri prodotti e farvi vedere come funzionano non mi resta che augurare tutti voi una buona grigliata un caloroso saluto da Emanuele al prossimo video